Kale B1 concede il BIS, il velocista australiano si impone a Novi Ligure e ottiene la seconda vittoria in questo Giro d'Italia un bel successo da parte di Kale B1 che veramente di prepotenza riesce ad uscire e ad effettuare davvero una volata potente, possente nella sua pedalata che in questo arrivo in leggero falso piano a sfavore riesce ad avere la meglio rispetto a Arno De Mar, Pascal Ackerman e ancora Elia Viviani che rimane all'asciutto in questo Giro d'Italia e questa era l'ultima possibilità per il corridore veronese visto che ha deciso di alzare bandiera bianca e non continuare la sua esperienza al Giro d'Italia visto le montagne che stanno arrivando e l'impossibilità comunque di lottare per la maglia ciclamino dopo il declassamento nella terza tappa visto che alla fine non ci sarà neanche la passerella in casa a Verona visto che sarà una cronometro quindi insomma anche Elia Viviani lì non può competere per un piazzamento importante quindi bella vittoria da parte di Kale B1 brava ad uscire ancora una volta peccato per Viviani perché si era messa anche abbastanza bene c'era Sabatini che lo poteva pilotare secondo me lì ha un po' sbagliato e Sabatini perché non è riuscito a condurlo bene Elia Viviani cioè è riuscito ad andare lì davanti ma poi non è riuscito a portarla davanti ad Ackerman che è l'Ackerman che ha lanciato la volata subito e poi alla fine è schiantato nel finale non è riuscito a tenere il passo poi di Iwan e di De Marre e quindi proprio grazie al secondo posto Arnaud De Marre sfila dalle spalle di Pascal Ackerman nella maglia ciclamino comunque onore al tedesco onore ad Ackerman per il coraggio comunque perché nonostante la caduta grave occorsa nella tappa di ieri di Modena oggi è tornato sulla strada e è andato lì poi anche a fare la volata giocandosela alla pari con gli altri tre quindi davvero complimenti ed onore a Pascal Ackerman tra l'altro altri piazzamenti per gli azzurri con Cimolai che arriva quinto Giacomo Nizzolo poco dietro ma insomma alla fine sono sempre questi quattro che si vanno a giocare la volata praticamente adesso ci rimane una tappa e basta in volata visto che domani cominceranno nella tappa da Cuneo a Pinerolo le difficoltà altimetiche con un secco gran periodo della montagna di prima categoria piazzato a una trentina di chilometri dal traguardo quindi insomma ci sarà sempre meno spazio per le ruote veloci perché adesso entriamo veramente nel vivo di questo Giro d'Italia che si deciderà tra la fine di questa seconda settimana e soprattutto nella tremenda terza settimana fatemi sapere voi nei commenti invece che cosa ne pensate lasciate una valanga, mi piace al video condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e niente da fare quindi per Elia Viviani che ha detto ci rivediamo al tour perché deve staccare la spina per questo Giro d'Italia purtroppo deludente per le aspettative che si era riposto su se stesso il pistman e sprinter veronese e a questo punto arrivederci ragazzi e al prossimo video grazie grazie